ok lo vedo ehi questo ti disorienterà quindi sarò breve sono vescovo non è il mio vero nome ovvio ma non saprai altro oggi ascoltami molto bene l'abstergo ti sta usando ti spreme i neuroni per esaminare i dati dei ricordi genetici l'abstergo ha già messo le mani su molte aziende e coloni organi di stampa associazioni e ora vuole controllare la storia stessa se questo non ti spaventa ti sbagli ma siamo qui per fermarli e ci serve il tuo aiuto diacono la sequenza genica a d 16 b 13 i 87 la preparo settimana scorsa abbiamo esaminato dei ricordi non sequenziati nel server elix di abstergo per ora vorremmo che vivessi un frammento della vivendo così capirai la nostra lotta alla fine deciderai tu stesso cosa vuoi fare ti aspettiamo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.